Salve, una domanda di attualità. C'è una risposta alla cultura della morte? Allora, come diceva San Giovanni Paolo II, il nostro mondo di oggi, questo occidentale nichilista relativista, è caratterizzato dalla cultura della morte. Questa non è, non bisogna pensare che sia una cattiveria infinita che sta nel nostro cuore, ma è semplicemente la risposta dell'uomo spaventato di fronte alla morte, che non sa che soluzioni prendere. Quando l'uomo cerca soluzioni nel disagio della vita, assediata dalla morte, fa peggio. Questo peggio si chiama aborto, questo peggio si chiama eutanasia, droga libera, disprezzo per i deboli, violenza continua, guerre, terrorismo. Sono tutte reazioni che cercano di esorcizzare la paura della morte. Una donna che si ritrova un figlio non voluto o chi si sente oppresso, non so, dall'Occidente, che usa il terrorismo. Ecco, tutte queste paure alla fine producono una cultura della morte, imporre la morte agli altri. E quando uno è disperato anche a se stesso, no? Col suicidio. Questi terroristi che si suicidano sono proprio la sintesi di questa cultura tipico del nostro tempo e del nostro modo di pensare. Come se ne esce? Se ne esce. C'è la risposta, grazie a Dio. In fondo l'uomo ha sempre avuto questo problema e il Signore nella sua compassione è venuto a rispondervi. C'è un episodio nel Vangelo che può essere utile per capire come funziona. È molto significativo, ha una bellissima immagine. Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Gesù entra in città con un grande corteo di persone che lo segue. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. È un altro corteo che va in senso opposto, si incrociano proprio. Gesù entra, questo corteo esce per andare al cimitero. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e disse non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse ragazzo dico a te alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare ed egli lo restituì a sua madre. Immaginate questo corteo che andava al cimitero, si ferma, il morto risuscita grazie a Gesù e quindi tutti si uniscono a questo grande corteo che va dietro a Gesù. Un corteo andava verso la morte, un corteo andava verso la vita. Il corteo che va verso la morte sono le nostre culture umane nel loro peccato che non hanno una risposta per la morte e quindi impazziscono a un certo punto. È costituito da un sacco di gente ma una persona veramente sola sa in quel momento che significa la morte. Questa povera vedova è quella che ha esplicitamente il pensiero della morte, di questo figlio che le è stata tolta e sta nella disperazione. Gli altri la accompagnano, in fondo sanno che c'è la morte, pensano in quel momento che riguardi altri ma prima o poi dovranno affrontarla anche loro. Allora questo corteo un po' alienato, un po' nella disperazione incontra Cristo che viene nella direzione opposta. Cristo ci porta la vita, ci dona la vita eterna perché ha compassione della nostra situazione. L'unico veramente che può liberarci da queste catene è quest'amore di compassione. La compassione di Cristo non è un sentimento, è il fatto che ha assunto la nostra natura umana mortale, ha assunto la nostra morte e l'ha spezzata sulla croce. È questo che ci libera, è questo che permetterà anche a questa generazione di cambiare direzione, di smettere di cercare la morte come soluzione alla morte ma di incontrare Cristo l'unico che libera, che ci dà questa apertura enorme che il nostro cuore tanto desidera. Ti benedica il Signore e ti protegga. Grazie a tutti. Grazie a tutti.